benvenuti in beltrani camper and caravan vi presentiamo questo splendido camper puro o furgonato roller team livingstone 3 prestige anno 2013 fiat ducato 2 3 multijet 150 cavalli 88 mila chilometri quattro posti omologati 5 99 di lunghezza colore oro metallizzato questo furgonato si contraddistingue per avere un'ampia dinette con seduta laterale cosa molto rara tra i furgonati uno dei furgonati più apprezzati dal dal pubblico roller team vanta una grande esperienza nella costruzione dei van dei camper puri portellone posteriore con accesso al gavone sottostante al letto matrimoniale posteriore un ampio letto con sovrastanti pensi bella dinette con seduta laterale dinetta l tavolo centrale cabina fiat con clima in cabina e retrocamera cucina laterale con sottostante frigo da 110 litri piano cottura a due fuochi il veicolo a un riscaldamento vebasto ideale per chi fa l'uso invernale armadio sopra al letto con sovrastanti pensili oscuranti plissettati in cabina portabici esterno veranda esterna a un doppio maxi oblo una sopra la zona giorno non sopra la zona notte qui il bagno con importante box doccia lavandino scorrevole per usufruire al meglio degli spazi finestra in bagno porta del bagno scorrevole che non intralcia il passaggio nel corridoio bellissimo camper puro colore golden white versione prestige la versione più finita come dotazioni che presenta la roller team vi aspettiamo in concessionaria